Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Nuova eruzione sull'Etna con esplosioni e una colonna di cenere alta 10 km. A Zafferana la pille in grado di danneggiare le auto, cause e ritardi nei voli all'aeroporto di Catania. Tragedie in mare a largo di Siracusa, naufraga un barcone e morti due migranti durante le operazioni di soccorso. Il calvario del piccolo Cristian, morto a 7 anni dopo un intervento al cuore all'ospedale civico di Palermo. Il dolore e la rabbia dei genitori, c'erano pochi medici e infermieri. La Sicilia che brucia, 9 incendi su 10 sono dolosi. Per i vigili del fuoco c'è quasi sempre la mano dell'uomo dietro le fiamme. Divieto di balneazione all'isola bella di Tormina per la presenza di un'alga tossica. La specie ha trovato condizioni ideali di sviluppo nel mar Mediterraneo. Calcio e il Catania perde con la Carraresi in Coppa Italia, ma l'attenzione resta tutta sulla mancanza delle fiduzioni e i tesseramenti dei nuovi calciatori. Beach Soccer e il Catania Beach Soccer vince all'overtime sul Catania FC e sfiderà il Pisa in finale. Si è appena conclusa l'ennesima eruzione sull'Etna con spettacolari fontane di lava durante la notte. Una colonna di cenere alta ben 10 chilometri. Pioggia di grossi lapilli su Zafferane. Il sindaco dice siamo disperati. Tonino De Mana. Croce e delizia, amore e odio. Ha deciso di regalarsi un'altra domenica da copertina per la gioia dei turisti e per la disperazione di cittadini e amministratori locali. E' scatenato l'Etna con un'imponente eruzione annunciata qualche ora prima dall'aumento del tremore vulcanico con spettacolari fontane di lava ed una nube di cenere alta 10 chilometri visibile da mezza Sicilia e dalla lontana Calabria. Ancora una volta protagonista il cratere Voragine alla quinta eruzione in meno di un mese. L'episodio ha interessato questa volta il versante orientale del vulcano a causa dei venti che soffiavano verso est-sud-est. In particolare c'è stata un'ampia ricaduta di materiale piroclastico di lapilli e anche grossolani di 3-4 centimetri nella zona fra Sant'Alfio, Fornazzo e Zafferana. Si aspettava la pioggia ed è arrivata un'altra pioggia inaspettata ed indesiderata. Erano le 5 del mattino, ho sentito forti boati e tantissimi rumori, pensavo fosse grandine e invece erano pietre che cadevano dal cielo e hanno letteralmente distrutto il lunotto della mia macchina. Le apille di questa mattina erano grosse come castagne. Sono 2-3 centimetri di terra coperti. Essere svegliati alle 4 e mezza di notte? Siamo stanchi, siamo stanchi. Qualcuno è corso ai ripari per cercare di salvare Lunotti e Parabrezza, altri hanno invece utilizzato mezzi di fortuna per proteggersi. Strade, piazze, balconi, terrazze, anneriti ed umore nero anche per il sindaco di Zafferana. Siamo disperati perché ancora una volta siamo stati colpiti dai fenomeni dell'Etna. Obiettivamente la situazione è diventata difficile, non ce la facciamo più. Il fenomeno è costantemente monitorato dagli NGV, mentre a giarre sindaci ed amministratori locali si sono riuniti per affrontare l'emergenza e per lanciare l'ennesimo grido d'aiuto. Ed è stata, come potete immaginare, una nuova giornata di passione all'aeroporto Fontana Rossa di Catania, che è rimasto operativo, ma a causa della caduta di cenere dell'Etna ha dovuto rimodulare le attività con una riduzione degli arrivi a sei voli all'ora, inevitabili percussioni anche per le pertenze. Come vedete dalle immagini, tanti viaggiatori in attesa del proprio volo. Molti voli sono in ritardo, qualcuno è stato cancellato o dirottato a Palermo o a Comiso. Lunga fila anche per arrivare in aerostazione. La società di gestione dello scalo, la SAC, invita i passeggeri a verificare con la propria compagnia aerea la situazione del proprio volo. Nuovo dramma della migrazione a Siracusa. Due migranti sono morti durante i soccorsi da parte della Guardia Costiera, intervenuta in aiuto di un'imbarcazione con a bordo siriani, egiziani e bengalesi, che stava affondando a 17 miglia dalla costa. Durante il trasbordo alcune persone sono finite in acqua, in 34 sono stati recuperati e fatti salire sulla motovedetta, quindi trasferiti in porto. Tra le persone soccorse, una è morta all'arrivo, la seconda dopo essere stata trasferita in ospedale. Sono in corso le ricerche in mare di un altro disperso. Intanto a Pozzallo sono sbarcati altri 21 migranti, rifugiati attualmente ospitati nelle due strutture della zona, sono poco meno di 300. E vi raccontiamo adesso il calvario di Cristian, un bimbo di 7 anni, morto all'ospedale civico di Palermo dopo un'operazione al cuore. Avviata un'indagine interna, il dolore e la rabbia dei genitori. Sentiamo Marco Gullà. Inchiesta interna all'ospedale civico di Palermo per la morte del piccolo Cristian, 7 anni, deceduto dopo un'operazione al cuore a un calvario, durato mesi. L'assessore regionale alla salute, Giovanna Volo, ha inviato gli ispettori per fare luce su cosa è successo all'ospedale civico. Il bambino era stato operato nel reparto di cardiochirurgia pediatrica, gestito dal policlinico Milanese-Sandonato, ed è morto dopo un calvario, durato 5 mesi. I genitori di Cristian hanno puntato il dito contro il nosocomio perché nel momento della morte non era presente neanche il medico di guardia, solo un infermiere. Secondo la coppia, inoltre, il personale medico e infermieristico era disattento, poco professionale, poco interessato al paziente ed inesperto. La convenzione che l'ospedale civico ha stipulato con il Sandonato prevede che il policlinico milanese invii i propri cardiochirurgi pediatrici due volte al mese per operare i pazienti siciliani, affiancati comunque dai giovani cardiochirurgi del civico che non possono ancora intervenire come primi operatori. Eppure, ha detto il padre di Cristian, non abbiamo mai visto né parlato con nessuno dell'equip del Sandonato. Dolore inguaribile, come quello che provano i genitori del piccolo Enrico, annegato nella piscina di Cassa Sua, nella borgata marinara di Sferracavallo. Ieri il piccolo avrebbe dovuto festeggiare i suoi tre anni e invece per un tragico incidente domani ci sarà il suo funerale. E fra le emergenze di quest'estate in Sicilia c'è anche quella degli incendi. Anche oggi ci sono stati diversi roghi, ma dietro a tutto ci sarebbe sempre la mano dell'uomo. A dirlo sono i vigili del fuoco. L'ultima notizia è che un 62enne di Montevago è stato denunciato dai carabinieri alla procura di Sciacca perché sorpreso a incendiare un'area di campagna a Santa Margherita di Belice nel Trapanese. Ma non è un caso isolato. Piuttosto questo conferma che la stragrande maggioranza dei roghi, che anche oggi vede la Sicilia martoriata dalle fiamme dopo i 27 interventi di sabato dall'Inquaglossa a Corleone, è di matrice dolosa. Gli incendi boschivi sono quasi tutti dolosi, anzi diciamo che sono la maggior parte dolosi causati dalla mano umana. Soprattutto quando non ci sono condizioni che ti possano fare capire che ci possa essere l'autocombustione, dove ci sono forti venti di scirocco, temperature oltre 45 gradi, è un incendio doloso. Ma come ve ne accorgete? Ce ne accorgiamo se troviamo l'innesco. Possiamo capire da dove è partito, quello sì, perché c'è sempre un inizio e una fine di un incendio. Ma qual è il guadagno dei piromani nel dare fuoco alle campagne? Dove potrebbe essere un terreno edificabile, possibilmente la mente gli fa dire che disboscando completamente la strada sarebbe più breve. Ma qual è l'identikit del piromane? Possono essere ragazzini, persone più grandi, o perché si vogliono pulire i terreni, o perché ce l'hanno con il vicino, o perché c'è tanta serpaglia per strada. In uno degli angoli più belli e suggestivi dell'isola, l'isola bella di Taormina, scatta il divieto di balneazione. La causa ha rilevato la presenza di un'alga tossica. Francesco Triolo. Alga in quantità superiore al limite consentito all'isola bella e così il sindaco di Taormina, a Cateno De Luca, fa scattare il divieto di balneazione. La nota dell'ARP è stata inviata il 24 luglio con la comunicazione che nel campione di acqua di mare prelevato il 22 luglio è stata riscontrata una concentrazione di ostreopsis ovata superiore al valore limite di 30.000 cellule per litro, che in questi casi fa scattare la fase di emergenza relativa al fenomeno delle fioriture ai gari durante la stagione balneare. Il divieto di balneazione e il tratto di mare dell'isola bella resta in vigore fino a nuove comunicazioni e di ARPA Sicilia e successive determinazioni del comune. L'alga rinvenuta, potenzialmente tossica, vive comunemente nelle acque calde dei mari tropicali sulla superficie di alghe rosse e brune, ma ha trovato condizioni climatiche ottimali di sviluppo anche nelle acque del mar Mediterraneo, comprese molte aree costiere italiane, caratterizzate da coste e fondali, a prevalente natura rocciosa. Durante la fioritura la microalga può rilasciare una tossina che ha effetti, anche se temporane, sulla salute umana e può manifestare i suoi effetti attraverso l'inalazione dell'aerosol marino, l'ingestione o il contatto con l'acqua di mare. Le sintomatologie sono generalmente ascriviti a disturbi respiratori, come riniti, faringiti, laringiti, bronchiti e congiuntiviti, talvolta anche febbre, nausea, vomito e dermatiti da contatto. Ancora roghi e rifiuti a Palermo, nonostante l'emergenza, però i voli dei turisti sono in aumento per le vacanze estive. Marco Gullà. Ancora una notte di roghi, di incendi, di spazzatura adatta alle fiamme. Quartiere Zen di Palermo la scorsa notte. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme scoppiate tra i cumuli di spazzatura abbandonati per strada. Roghi sono stati segnalati nelle vie Rochi Marciano e Fausto Coppi e hanno impegnato diverse squadre di pompieri. Anche questa mattina i vigili del fuoco sono tornati nel quartiere per spegnere altri incendi. Nonostante doppi turni e le ditte esterne, la città continua ad annaspare tra i rifiuti, soprattutto in periferia. Situazione delicata anche nel quartiere di Tommaso Natale. Il presidente della RAP però spera di accelerare nella raccolta delle tonnellate di immondizia per strada e presentare la città con decoro nella settimana di ferragosto, considerato che tantissimi turisti hanno scelto il capoluogo siciliano per le vacanze estive. Una sorta di paradosso, perché nonostante Federalberghi lancia l'allarme sulla fuga dei turisti a causa anche dei rifiuti, secondo i dati raccolti dal gruppo Alma Wave, le prenotazioni per voli ad agosto verso l'isola fanno segnare un aumento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Su Palermo le ricerche voli per agosto sono in aumento dal 20% rispetto al 2023 e del 73% rispetto al 2019. E poi c'è l'altra emergenza, l'emergenza siccità con la crisi idrica per la quale non si vede ancora la luce in fondo al tunnel. Il servizio. C'è chi beve poco, c'è chi invece rischia di morire di sete. Come i residenti di Contrada Fontanella, Caltanissetta, che da 30 giorni non ricevono una sola goccia d'acqua. Come i cittadini di Agrigento, che si sono ritrovati con la solidarietà anche del Vescovo, in più di 2000 a protestare contro l'inadeguatezza della gestione delle strutture dell'emergenza, mentre il sindaco vieta, riprendendo il vademecomo della regione, di lavare marciapiedi, piazzali, auto o innaffiare orti e giardini con acqua potabile. Nella città dei Templi, il 52% del prodotto acqua si perde e il primo cittadino annuncia per l'autunno l'avvio dei lavori per rifare la rete idrica. Ci vorranno due anni, forse, per completarla. Intanto, come Agrigento, l'intera Sicilia si trova a dover fare i conti con una situazione di emergenza epocale che è esplosa in questa estate torrida, con a corredo però 50 anni di gestione inadeguata degli impianti. Da Enna a Messina, da Palermo a Siracusa, quando ci sono stati si è trattato di rattoppi e microinterventi che come risultato vedono oggi lo spreco, strada facendo, di metà dell'acqua che passa dalle tubature vecchie. Lo dice la CGA di Mestre, la Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato, che nello studio presentato nei giorni scorsi parla addirittura di rischio di desertificazione. Dalle città alle campagne a soffrire pesantemente sono anche gli agricoltori e gli allevatori. La regione ha stanziato 2 milioni e mezzo per potenziare le risorse idriche nel capoluogo. Trapani è la più virtuosa tra le nuove province isolane. Ma certo, tutto questo non basta a far sorridere chi sta boccheggiando. Impenna sulle due ruote sulla tangenziale di Catania nei pressi dello svincolo di Gravina mettendo in pericolo gli automobilisti. Manovre azzardate che sono state riprese in un video diventato virale in poche ore. Il giovane però è stato identificato. Per lui una multa da 1000 euro e 9 punti in meno sulla patente. La moto è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi. A Cinesi, un muratore in pensione è caduto da un'altezza di 5 metri mentre effettuava dei lavori in casa. L'uomo è stato soccorso e trasportato il codice rosso al pronto soccorso di Villa Sofia e in gravissime condizioni. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità. Torniamo subito dopo con altre notizie. Sono tanti i vippe che scelgono la Sicilia per le vacanze. C'è stata anche l'apparizione a sorpresa di Kevin Costner a Taormina dopo aver fatto in barca il Giro delle Oli e il celebre attore americano è stato notato in un negozio di antiquariato. In giornate il premio Oscar partirà per Berlino dove presenterà il suo nuovo film. Rosalia, culto e devozione nell'Agrigentino è la mostra dedicata ad una delle sante più amate. Davide Sardo Ad Agrigento, al polo espositivo del Mudia nella chiesa di San Lorenzo in Via Atenea è stato inaugurato un percorso mostra con documenti d'archivio, testi a stampa dipinti, sculture, gioielli, argenti e altri preziosi manufatti sul culto e sulla devozione legati alla santa più amata dai siciliani, Rosalia. La mostra percorso propone una visione d'insieme sulle città e chiese che hanno avuto e hanno ancora una profonda devozione verso la Santuzza. La parte centrale della mostra è dedicata alle tre comunità che in diversi modi sono legate alla presenza di Rosalia, Bivona, Racalmute e Santo Stefano Quisquina e sono state selezionate anche opere provenienti da altre comunità del territorio agrigentino. Ci prepariamo a diventare capitale della cultura, noi facciamo cultura attraverso tutto il patrimonio che abbiamo sempre, quindi anche questa si inserisce per far capire come questo spazio, come questo luogo, come la dioce si contribuisce e può contribuire a dare sviluppo al territorio. La particolarità di questa ricostruzione è riconoscere la presenza di questo culto prima del ritrovamento delle ossa a Monte Pellegrino e quindi un forte legame che lega Rosalia alla Quisquina, a Bivona e a Racalmute. Un percorso mostra dinamico, infatti le opere che sono in mostra sono beni per il culto e rientreranno nelle comunità di provenienza anche durante la mostra in occasione della festività liturgica del 4 settembre, riservando spazio ad altre opere provenienti dalle altre comunità della diocesi. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi torniamo per parlare del difficile momento del Catania e del problema delle mancate fideiussioni e anche dei successi nel beach soccer. A tra poco. Siamo alla pagina sportiva. Il Catania perde con la Carrarese in Coppa Italia ma l'attenzione resta tutta sulle mancate fideiussioni e il problema dei tesseramenti. Marco Carli. Non era certo l'avvio di agosto che i tifosi del Catania si aspettavano. La partecipazione alla Coppa Italia Maggiore doveva essere una celebrazione, quasi una festa d'inizio stagione e invece si è tramutata in un weekend nero per la nota questione dei tesseramenti che ha impedito a Toscano di schierare tutti i nuovi acquisti a Chiavari dove a fine gara si sono registrati alcuni tafferugli fra i tifosi etnei e toscani. La sconfitta passa quasi in secondo piano almeno sul campo. I reduci, fra cui alcuni giocatori in partenza, hanno tenuto botta perdendo solo al novantesimo per questa rete di cerri. Voglio ringraziare i ragazzi che sono andati in campo che ci hanno dato grande disponibilità. Poi la partita a punto di vista d'atto e cosa va in secondo piano. In avvio di ripresa gli altri due gol dell'incontro che Rubini porta in vantaggio i toscani Popovic pareggia su assist di Chiricò. Ma come detto le attenzioni sono rivolte ad altro e alla data del 9 agosto quando si deve risolvere il caso Fidei Ussioni i fondi dall'Australia sarebbero stati trasferiti e si deve sapere con che ruolo il Catania parteciperà alla prossima stagione. Uno scenario che tiene in ansia i tifosi è che anche figlio degli errori compiuti sul mercato la scorsa stagione tocca alla proprietà dare un segnale. Sono arrabbiato di questa situazione perché non me l'aspettavo. Ho fatto delle scelte importanti per essere allenato del Catania e ne sono orgoglioso. So che la società si sta adoperando a 360 gradi per poter dare la possibilità di intraprendere dal 9 una strada ben precisa per iniziare a capire cosa vogliamo fare e dove vogliamo arrivare. Beach Soccer è una partita dalle grandi emozioni la semifinale Scudetto fra Catania Beach Soccer e Catania FC. Vincono i primi all'Overtime e sfideranno il Pisa in finale. Ancora una volta in finale il Catania Beach Soccer si conferma grande protagonista dello sport sulla sabbia. Ma anche il Catania FC non sfigura e dopo la vittoria in Coppa Italia porta l'altra squadra etnea al supplementare nel derby che assegna un posto nella finale Scudetto. Alla fine, alla meglio, all'Overtime il Catania Beach Soccer setta a sé il punteggio finale e adesso affronterà il Pisa. Sotto di tre reti la squadra allenata da Fabrizio Santos non ha mai mollato concretizzando la rimonta al supplementare con la rete di B. Martins. Ma come detto la semifinale certifica anche la grande stagione del gruppo guidato da D'Amico che si era portato in vantaggio col punteggio di 4-1 con Eudin protagonista. Siamo presa poco a metà gara ma nel secondo tempo con Catarino e nel terzo tempo regolamentare con le reti di Perciamontani e Giordani arriva la parità. Poi una guerra di tecniche e di nervi con anche due espulsioni che alla fine come detto premia il Catania Beach Soccer giunto alla 32esima finale della sua storia e la sesta consecutiva in campo nazionale. È tutto per questa edizione grazie per averci seguito vi auguro una buona domenica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.